Wahey Kooj, ben ritrovati dal vostro Andrea Link 91 su Yo-Kai Watch 3 Cominciamo subito con Andrea e Wyatt che comunque sia stanno parlando con Bob E così me l'ho noto come respirapolvere Yo-Kai Che storia, avrei voluto esserci anche io? Zendaioppo le sembra fantastica, perché non mi ci ha portato? Scusa, scusa, è successo tutto così in fretta Eh già, accidente, ricordati di me la prossima volta Va bene, non ti preoccupare, sì abbiamo ricevuto una specie di aspirapolvere Yo-Kai Che in realtà è un aspirapolvere Vedrò come funziona perché in giapponese non ci ho capito nulla Ma in teoria dovrebbe trovarmi di Yo-Kai, gli stessi Yo-Kai della medaglia che infilo La stessa tribù o qualcosa del genere Guarda che ti sono trovato un buon amico signorino Wyatt Sicuro, io e Andrea siamo compagni d'avventura Siamo un duo perfetto, come la Nina, la Pinta e la Nasa Ah no Infatti quello è un trio Luna? Ehi ma Come mai sei qui? Ehi baby Adoro E questo chi sarebbe Eh, aspetta che ora te lo spiego Accidenti a Luna Fuga dalla casa stregata Oh Già Oh, non ero certa che avrei capito la lingua ma a quanto pare grazie al potere di Dio che riesco a comunicare Hello Yes, io adoro la persona felice proprio come io Vuoi diventare amico di Sleon Guisa, s'il vous plaît? Yes, of course, sicuro So che Andrea ha già la tua medaglia Ma anche io voglio averti come amico E invece no Ehi Andrea, è una tua amica? Ok Eh, più o meno Quella di per sospetto non mi fido Non dirla a me Eh, Luna, come sei arrivata qui? Sul serio? Beh, allora io ho poi c'è uno di quegli agenci che mi teletrasporta a casa Ho detto che l'altro mi avrebbe condotto qui da te e ne li usa Quindi mi son detta perché non provare ed eccomi qua Inoltre Andrea, puoi tornare anche tu a Valdore in questo modo? Posso? Certo che no, Andrea, non ci arrivi da solo Ti sei trasferito negli usa? E' qui che dovresti stare, non pensi? Tutti ti chiederanno E tu che ci fai qui? E tu cosa risponderai? Eh, ho dimenticato lo spazzolino? Peccato La situazione è più complicata di quanto pensassi Beh, pazienza Ma dopo troveremo il modo Wyatt, giusto? Chiedici di farmi la guida? Io? Perché proprio io? Perché sei di qui, no? Conoscerei sicuramente dei posti interessanti Allora, cosa c'è da visitare? Qui c'è qualcosa di imperdibile? Eh, ci sarebbe il circo Ma noi l'abbiamo già visto Un circo? Toco, proprio qui WMG, WMG Corro e sappiamo che arrivo ultimo Uno scognigliato Ehi, stop Aspettami Ehi, aspetta Oh no Scognigliata Scognigliata Per favore Accompagnatevi al circo Corriamo al razzo Questa lì è una bomba Una leggeria pronta a esplodere In qualsiasi momento E così siamo costretti a seguirla Già, non abbiamo altra scelta A dire il vero Dovrei potenziarmi Lo yokai watch Lo sai? Non dimenticatevi di me Vabbè no Qua non posso fare la voce robotica Ogni volta, dai Aspirapolvere yokai Raccolgo oggetti E medaglie yokai Posarmi quando vuoi Patto che ti trovi all'aria aperta In basso a dove mi attivi Raccoglierò oggetti diversi Alcune volte la cosa Raccolta andrà molto bene Altre potrei Altre volte potrei rompermi Addirittura Devo selezionare il tempo E la modalità Va bene La medaglia che utilizzi Determinerà il tipo di oggetti Che posso raccogliere Facciamo una prova? Mettiamo 10 minuti Tipo Poi a fine episodio Andiamo a vedere Se mi ricordo Ma qui proviamoci Dai tanto Ok Aspirapolvere Seleziona obiettivo 10 minuti Normale Equipaggio una medaglia Tribù audace In capallo Al lavoro Salve Andrea Ti stai impiegando molto Come sempre Ok Lui quindi Se ne va E se ci parlo Ok Fa tutto quanto Per conto suo Andiamo un po' a prendere Quella sconigliata di luna Va Ok Questo qui Non lo faccio Ora Perché tanto Comunque sia È un po' come per i fratelli Comastoppisti Li trovate in giro Per la mappa Non So di preciso Dove Però comunque sia L'avevo già trovati Su Sushi Qui ho scelto appunto Tomnian Perché non ce l'avevo E Di là avevo già appunto I Comastoppisti Quindi ho scelto lui Però Se girate un po' Per Arachiglia Li trovate anche voi Oh finalmente Questa cesta Mi dà le tecniche migliori A forza di raccoglierla Ogni volta Mi ha dato Un oggetto Davvero importante Quindi è molto importante Come disse appunto Nello scorso episodio In un episodio scorso Di raccogliere sempre Le ceste che trovate Perché più e più volte Vi danno ogni volta Oggetti migliori Guarda quella tendosa pionna È giganterrima Qui negli usi tutto Più grande Anche le porzioni di cibo Vuoi calmarti un attimo Stai andando a razzo Come posso mai Sar calma davanti A tanta spettacolare Meraviglia Oh Tipico comportamento La turista Non mi sembra Molto saggio Lasciarla girare da sola Sarà meglio Guilarla in giro Dici davvero Oh Andrea Che caruccia Che sei Non illuderti Non fai parte Del nostro gruppo Come possiamo Entrarne a far parte Ci vorrebbe Una piccola prova Così da dimostrare Che ne siete all'altezza Cosa Un'iniziazione Ci sto Lasciate fare a me La determinazione Non ti manca Ascolta bene Siamo sempre In cerca di nuove avventure Trova una pista Che ci conduca Alla prossima avventura E sarai dei nostri Se vuoi un consiglio Puoi prendere ispirazione Dalla rivista Fancy Death La rivista Del mistero Fancy Death Forse non ne hai mai sentito parlare Ma c'è un blog Molto interessante Senti che ne parla L'autore è davvero un genio L'autore è proprio Luna È lei a scrivere quel blog In tal caso Luna dovrebbe sapere tutto di È incredibile È vero Quello è il tuo blog Oh sì È un passatempo Scoprò un disinteressante Repubblico Che sarà mai Modesta Ragazzina Non ci credo Dimostralo Portaci una copia Per rifai inserire che non è ancora Che non è ancora stata pubblicata Online Sono un gioco da ragazzi A Val d'ora Se ne trovano a bizzeffe Prossima tappa Agenzia investigativa Super Oh quindi devo andare Devo Passa a Luna Per continuare Ok ma Il fatto è che Continuiamo con lei Negli USA Andiamo ad Investigazioni Conan E via Allora cambiamo Anche scena Eccola qua È notte Sì Ok quindi Ora siamo All'agenzia investigativa Dobbiamo prendere Una copia di Fancy Che ancora Lui non ha pubblicato Allora soci Dobbiamo trovare Una copia di Fancy Altrimenti Altrimenti Farò una figuraccia Quindi Qualche idea Ma se neanche Da dove iniziare E qualche consiglio Da darmi Blah Fammi pensare Potremmo provare A scriverlo Tra le richieste Potremmo specificare Che accettiamo Copia di Fancy Debt Come pagamento Sembra un'ottima idea Facciamolo Mi basca da pubblicarlo Sul sito E non ci resta Che aspettare Perfetto Oh è giorno Quindi Dobbiamo ricevere Dobbiamo svolgere Una richiesta Che ci paghi Con Fancy Debt Allora Ci sono nuovi incarichi Per noi blanti Ne abbiamo ricevuto Uno Che offre Una copia di Fancy Debt Come pagamento Come a me Ci siamo Super Che colpa di fortuna Ma ci resta Che portare a termine L'incarico E avremo quella rivista Non ci ferma nessuno Missioni chiave Quanto le odio Servix Un American Yu-Kai Ha un incarico Vuole capire Come si comporta Una cameriera Qui a Val d'Oro Ma non ricordo Questo Dobbiamo andare Dobbiamo andare A fare la cameriera Alla maid Come va? Salve Benvenuta la Conan Investigatori del mistero Deci pure di cose Bisogna ci metteremo All'opera Oh cari Sono venuto qui Per studiare L'arte delle cameriere Di Baldoro Vorrei sapere di più Così da poter offrire Un servizio Un miglior servizio Sì? Non sapevo Volevo che a Baldoro Ci fosse un'arte Delle cameriere Perché qui Sono particolarmente Attenta All'impiattamento Alla presentazione Ah giusto Qui in zona Il caffè e reglietto È uno dei più rinomati Per queste piccole attenzioni Ma che bello Allora a Baldoro Anche nei caffè È importante la presentazione Potresti aiutarmi A trovare lavoro lì Mia cara? Lavoro? Ci pensiamo noi Seguimi il caffè e reglietto Proprio qui a Scintilla Pensi che assumono i yokai? Ok Praticamente Baldoro È la classica regione Del canto Che troviamo un po' In tutti quanti I giochi In tutti i giochi Praticamente È il 90% Dei giochi Che sono ambientati In Giappone La regione È il canto Che tra l'altro È una vera regione Ed è anche La prima regione Di Pokémon Di Pokémon Di primo gioco Pokémon Eccoci poi comunque Per favore Fatemi lavorare qui Ho tutte le qualifiche necessarie Vi prego Non ti sente Sei uno yokai Wait C'è un piccolo problemino Essendo tu uno yokai I clienti Non riusciranno neanche a vederti Figurati ordinare Ok Non sappiamo una ragione Ci sono Potrei lavorare A posto di Servix Come dici Servix Può incantarmi Così fare esperienza Ho capito Sembra roba Che faccia a caso mio Ti ringrazio Possiamo cominciare Quando vuoi Sì Beccate questo Proprio Salvere dal bentornato Cercate personale Io ciao Non siamo troppo giovani Per voler già lavorare Beh ecco Volevo solo fare un po' Di esperienza lavorativa Capisco Va bene allora Prima cosa Facciamo un giro del locale Fantastico Grazie Fammi sapere Quando vuoi iniziare Mi sono atti molto la voce Va bene Pronta a lavorare Come cameriera Non potrei andartene Fino a fine turno Ok Beh lavorare part time Senza essere retribuiti Non è bello Però Voglio dire Ci sta La settimana di prova Dopo quella settimana O paghi O vieni pagato Oppure ti mandano via Ed è facile Che ti mandino via Lo so Per esperienza Ti sta pennello Sembri fatta Per questo lavoro Dici davvero Grandioso Ci sono delle espressioni Specifiche Per riferirsi ai clienti Ah Fammi pensare Ci rivolgiamo sempre Ai clienti Dandogli del lei E in ogni caso Devi essere sempre Gentile E gioviale Questo lo sanno Tutte le cameriere Ce la metto Ce la metto da tutta Ecco un cliente Facca a te Luna Dai benvenuto al cliente E accompagnalo al tavolo Farà del mio meglio Mi mostri la carta Così posso capire Se è uno che torna Oppure uno che viene Per la prima volta Adesso cosa dico Weyla Ciao Sto posto Servicivo a tutto volume Dammi il solito fra Ma questo non è club Ma che dici Luna Sei butta fuori Di una discoteca Adesso cosa dico Salve Le do il benvenuto Ma non Mi piacere rivederla Vediamo il benvenuto Sono Luna Una nuova cameriera Ah Finalmente Che frase ospitale Il caffè oreliette Mi fa sentire a casa Potresti ripeterlo Luna Certo Le diamo il benvenuto Oh Grazie Luna Stai calmino Stai calmino E minorenne Stai calmo Va bene che in Giappone Le loli Però stai calmo Ottimo Luna Cliente felice Carriera felice Non ho fatto niente Di che Bene ora Vai a prendere L'ordine del cliente Per favore Questa parte del gioco È un pochino Frustrante Per un maschio Però Salve È pronto Per ordinare Sì certo Vorrei un omelette Con il riso Con il riso E il ciambellone Da bere Tè al limone Stai ringrazi per l'ordinazione Presto Oh E stai calmo Ho detto che è minorenne Però Non è che Perché non può fare niente La tratti male Stai calmino Centaccia Dunque Dunque cosa ho ordinato Come piatto principale Omelette con riso Come dolce Ciambellone E da bere Tè al limone Perfetto Puoi portare l'ordine al cliente Quando sarà pronto Certo Sicura che fossero Proprio quello che ho ordinato Non è omelette di riso Sì Grazie Luna Sembra delizioso Quindi Quindi E cosa vuole Ah giusto Darti delle cameriere La soffice omelette Si sposa perfettamente Con il riso Creando una sinfonia Dottore Sapore deliziosa E a che serve Grazie mille Mi hai fatto punire L'acquolina in bocca Che delizia Meraviglioso Sorride ogni boccone Vorrei poter offrire Un servizio del genere Quindi E questo è l'arte Delle cameriere di Valtor Sono sorpresa Bene Un altro incarico Portato a termine Con maestria Ottimo lavoro Luna C'è un'ultima cosa da fare Cosa sarebbe? Qui al caffè Aureliate Offriamo un servizio Unico del suo genere Ah Questa devo sentirla Qui giochiamo a sasto Carta forbici E con i clienti E se vincono Possono farsi una foto Con le cameriere Da tenere come ricordo Io sapevo Che comunque sia La foto col cliente Se la fanno comunque Però Offrite anche foto ricordo? Certo Il tuo cliente Ha chiesto espressamente Una foto con te Dobbiamo vincere Dobbiamo assolutamente Vincere noi Perché se vince il cliente Ragazzi Non so cosa potrebbe farci Con quella foto È un talento naturale Sai? Geniale Meglio non farò aspettare Il cliente Andiamo presto? Va bene Va bene Vado Ah Dove Quello qua Sei stata davvero Una cameriera eccezionale Luna Le ringrazio per aver aspettato È pronto? Andiamo sul palco Dobbiamo vincere Assolutamente Devo avvertirti Sono un esperto Di sasto Carta forbici Vincerò io Tu non sai che anch'io Sono un esperto Nella vita vera però Buona fortuna Sasso Carta Sasso Forbici No sasso È davvero bravo Come diceva Esatto Luna Ti vuoi di fare una foto con me? Ma non è meglio di tre? Biotri Biotri Oh E anche questo Fa come se pare Cheese A me sto tipo Non mi piace È stata davvero Una giornata meravigliosa Grazie per la foto Ricordo Sono contento Che sia trovato bene Torni pure a trovarci Quando vuole Magari quando Non ci sono le loli Bel lavoro Luna Anche se Cinzia Mi sembra minorenne Comunque Quasi Vorrei che prendessi Questo come premio Per la tua professionalità L'app Meteo L'app Meteo Eh Bella Ma deve aver lasciato L'educazione Su Giove Sconegliata Non è un app Meteo Qualunque Guarda bene È l'edizione Delle Sailor Belle Le paradine Delle previsioni Meteorologiche Come hai detto Le Sailor Belle Non sapevo se ti sarebbe piaciuta O meno Ma prendila pure Piaciuta Le Sailor Belle Sono tutta la mia vita Un regalo Geniale Davvero? Evviva Grazie Che sorpresa Che giornata eccezionale Un incarico dato a te Non c'è che dire Oh yeah Incarico principale Portato a termine Con successo Ti ringrazio molto È stata un'esperienza Davvero preziosa Mi ha portato alla mente Ricordi Quando ero una giovane Cameriera alla villa È lavorato in una villa Galattico Quanti ricordi Forse dovrei tornarci Ah già La villa in questione È nominata in questa rivista Yes Puoi prenderla tu se vuoi Era il pagamento no? Geniale Felicitet C'è la vecchietta lì All'angolo Non vale proprio parlarci È stato davvero piacevole Passare del tempo con te Tu ragazzino Vai Mamma Ho imparato molto Cioè Un po' di tutto Per esempio Senti qui Eh Ascolta bene Basta con il suo Vostro servizio Ho capito Mangia l'omelette Il riso È una sinfonia Di odori e sapori Wow E quello pure diceva Ma che succede? È stato sicurato alla testa Service dovrà fare Ancora un po' di pratica È troppo divertente Quando l'ambiente Interagisce col personaggio Nel giusto momento Anche se in realtà Lo fanno di Lo fanno proprio Di Perché È di default È il computer che dice Il personaggio Ora si deve grattare la testa Però È interessantissimo Quando Quando vanno a tempo Proprio Tecniche migliori Tecniche migliori Nooo Però È sfera media È sfera media Molto importante E continuiamo Con la storia Allora Oh yes Ragazzi È mia La nuova Scenariffa Insidette Qui nelle mie mani Galattico Ce l'abbiamo fatta Chissà che faccia Faranno i nostri amici Andrea Pinco Pallino Come on Partiamo al razzo Verso gli USA E godiamoci Lo spettacolo Buon viaggio Fate attenzione Grazie Blanti Pinco Pallino Ma poverino Wyatt Arie Eccomi qua Ragazzi Ti voglio vedere L'ultima uscita Di Fancy No way Non è uno scherzo Ecco Fammi vedere Prego Prego Guarda Stupisci Non c'è Trucchi Non c'è Ingano Allora Ho passato La prova Sono iniziata Che storia Non ci posso Credere Guarda qua Andrea Fammi vedere Voglio vedere Sono io Il fratico Della rivista Ragazzi La mia prova Fensilette È proprio Una rivista Incredibile Ehi Allora La mia prova Ah già Diamine Sì L'è passata Congratulation OMG 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 Ora La sottoscritta Luna Fa parte Nel gruppo Toggerrimo What? Che cosa? E con suo arrivo Inizia una nuova avventura Per Wyatt E Andrea Luna Potresti lasciar perdere La narrazione In terza persona E poi Non dimentichiamo nulla Eh? Fotonomino Officiale del gruppo Ready? Oh sono pronta Bene Allora Oh capitano Mio capitano Dovrei mettere La clip del film Ma si dai Copyright Chi se ne frega Capitano mio capitano Si sieda immediatamente Anderson Ti nomino Ti nomino Ti nomino ufficialmente Parti del nostro Gruppo D'avventurieri Io Compagno D'avventura Di Andrea Il sole Io dico Andrea Che mi sono perso Cosa? Non lo sai? Sembra un tipo ordinario Ma è una leggenda Beh In effetti A meno a scuola Una volta Hai dimenticato I pantaloni Della tuta? Eh Non sono certo Di voler sentire Il continuo Comunque Ora che sei dei nostri Hai accesso Della nostra Base segreta Base segreta OMG Aspettiamo Andiamo Beh Se ti dimentichi I pantaloni O meglio Quando andavo Alle medie Io I pantaloni Se dimenticavi Un qualcosa Della tuta Non facevi Ginnastica Ebbene Mentre ci dirigiamo Verso La nostra Base segreta L'episodio Può terminare Io Gugio Come sempre Vi ringrazio Per averlo seguito E vi ricordo Ovviamente In descrizione I link Per twitter E instagram Se ancora Non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi Ci vediamo Come sempre Nel prossimo video Bye bye Aspetta però C'è la parte Bonus Ora Ehi Non ho ancora Finca di polire Ma ho raccolto Queste per te Polvere E ora Si deve Ricaricare Spazzatura E ora